Io vi chiedo scusa, però purtroppo quando si inganna la gente, guardate, io non ho paura di voi, perché quando si inganna la gente, quando voi ingannate le persone, non si ingannano i cittadini italiani. Il cittadino italiano non può essere ingannato, noi da gestori di mezzi di comunicazione dobbiamo badare e vigilare su questo. La politica oggi ha ingannato l'elettorato, gli ha detto una cosa, ha preso i voti sulla base di una promessa che poi non è stata mantenuta. Questo io trovo che sia la cosa più grave, una cosa gravissima, la promessa elettorale non mantenuta, ma sui principi generali, non sulle stronzate. Se io non mantengo una piccola promessa, un milione di posti di lavoro, poi magari sono centomila, ma io non ho mantenuto la promessa sui principi di base, sui principi ideologici. Non starò mai con quello e invece ci faccio bacino. Non farò mai questa cosa e invece la faccio. Hai capito? Questo è l'inganno più grave sul quale io ritengo il Presidente della Repubblica dovrebbe mettere le mani. Perché questo è un inganno. Io ti ho dato un mandato per fare una cosa, ti ho chiesto un mandato, tu me l'hai firmato e invece ne ho fatto tutt'altra cosa. Enrico, non è così. Noi siamo stati ingannati in questo, Enrico, questo è il problema ed il motivo per il quale oggi ci troviamo in questa situazione è perché non abbiamo potuto proprio... Oggi, se tu per caso sei eletto dalla tua circoscrizione, dai tuoi 60, 70, 80 mila elettori e fai una cretinata, ma quelli non ti rileggono più. Ma se tu non devi rendere conto, perché tanto c'è il posto sicuro, perché sarai nominato e il tuo nominante è uno che alla fine i voti li prende perché la televisione, la radio ti sta, i mainstream, i giornaloni, la carta straccia che diciamo prima, ormai ti mette tutti i giorni lì, alla fine la gente ti mette la croce. Ecco qua che è la democrazia, così muore la democrazia, non con un sistema serio. Quindi la cosa che si doveva fare era cambiare, tornare ad una legge elettorale più equa e non un taglio dei parlamentari. Enrico, scusami, non è così? Guarda, guarda, assolutamente, ma io facevo questo esempio proprio perché nella Costituzione c'è tutto. Se noi leggiamo l'articolo 1, dice che l'Italia è una repubblica democratica. Io prendo il mio volumino. Poi, voglio dire, dice fondata sul lavoro, ma in questo caso non ci interessa. La sovranità appartiene al popolo. E come si esercita la sovranità se non scegliendo i propri rappresentanti. La sovranità significa che il potere che ha il Paese deve essere esercitato dal popolo. È chiarissima la Costituzione. Allora mi spiegate, se la Camera dove ci sono i rappresentanti del popolo, che è composta da 630 deputati, soltanto 232 sono stati eletti dal popolo e gli altri 368 vengono nominati dai partiti senza che il cittadino possa esprimere la sua preferenza. Il Parlamento già è stato espropriato di questa sovranità. soltanto il 37% degli eletti in Parlamento proviene da una scelta dettata in termini preferenziali dal cittadino. Come si è potuti arrivare a questo, Enrico? Perché questo contrasta anche con molti altri articoli della nostra Costituzione. Come ci si è arrivati? Guarda, quando nel 1948 venne emanata la Costituzione vi era un proporzionale puro dove nei collegi si potevano scegliere i propri rappresentanti dalle liste che presentavano i partiti. E tu in un collegio come quello di Roma e provincia potevi scegliere 300 candidati. e ognuno si poteva iscrivere. Addirittura, prima nel periodo anticostituzione, nel 1919, le grandi democrazie liberali prevedevano anche le cosiddette liste incompiute ossia lasciavano dei posti a margine in cui potevano essere inseriti dal popolo direttamente altri nominato. Perché questo? Perché se noi ricordiamo le grandi opere prendiamo ad esempio l'Abruzzo l'autostrada ha un nome e cognome del rappresentante del territorio gli ospedali hanno un nome e cognome del rappresentante del territorio tutta l'economia, lo sviluppo, il fatto di aver previsto all'interno del Gran Sasso un centro di altissimo studio per quanto riguarda l'attività scientifica con investimenti milionari è stato il frutto di qualcuno del territorio che se ne è occupato magistralmente ha seguito la cosa dalla sua idea al suo finanziamento dal fatto che ci fosse che il paese presentasse questa opportunità dal fatto di riuscire ad individuarla quindi e a portarla nel proprio territorio come Telespazio, come la Texas Instrument ecco, oggi con questo sistema che è in voga ormai da 30 anni non si è riuscito a fare in Abruzzo negli ultimi 30 anni neanche gli ultimi 20 chilometri di un'autostrada complessissima antieconomica, fatta di ponti, viadotti, gallerie per una transumanza minima di persone voluta proprio dalla pervicacia, dalla costanza dall'ostinazione del rappresentante del posto che doveva, come diceva giustamente Fabio riguadagnarsi ogni volta la titolarità a rappresentare il cittadino e questo è accaduto in tutta Italia in questo modo tutte le grandi opere hanno un nome e un cognome io le potrei citare una per una ma perché sono quelle persone, Enrico, scusami che tengono al loro territorio e bilanciano gli interessi di altri è un bilanciamento la politica di interessi non solo gli interessi di qualcuno è un bilanciamento di interessi globali d'altronde, come si dice la mia libertà inizia e finisce dove inizia la tua, no? però questo significa che noi dobbiamo sempre bilanciare gli interessi se noi facessimo le opere solo dove è facile farlo e allora andremo contro la logica della mutualità di un paese, di un popolo e come Kennedy diceva noi andremo sulla luna perché è difficile e non perché è facile perché dobbiamo dimostrare che l'uomo è un esploratore e che esplora anche lo spazio ecco, in questo senso noi dobbiamo dimostrare che siamo un popolo unito anche chi abita nelle montagne abruzzesi ha diritto ad avere la sua autostrada di potersi collegare rapidamente con tutti gli altri concittadini se noi andiamo nei paesi civili ci accorgiamo che i collegamenti le strade, le autostrade le linee di collegamento telefonico sono funzionanti perfettamente non è che nella grande città c'è qualcosa di più o di meno di un centro in una montagna